Good morning Juventus! Spero che non vi siate spaventati dal titolo che ho messo oggi perché non è farina nel mio sacco, ma fa parte delle grandi profezie dei grandi giornalisti italiani. Ebbene sì, cito testualmente dal numero di agosto del Guerin Sportivo, dove c'è una splendida copertina dove c'è scritto Il Camino di Santiago e poi c'è una musicantografia di Douglas Lewis, che lascia intendere un giornale che sta, diciamo, tessendo le lodi della Juventus, si aspetta all'interno degli articoli dove si parlerà soltanto bene di Tiago Motta, soltanto bene di Giuntoli, degli acquisti che sta facendo Giuntoli, e invece guarda un po', apre il giornale e dove c'è l'editoriale, torna sempre lui simpaticissimo, fortissimo, intelligentissimo, bellissimo, competentissimo Ivan Zazzaroni. Sapete che io non è che lo amo particolarmente, lo rispetto, ci mancherebbe altro visto che è un giornalista, però non è che mi faccia impazzire. Allora lui nel suo editoriale, che cosa fa? Intervista Italo Cucci, giornalista che negli anni 70, negli anni 80, era considerato il guru dei giornalisti italiani insieme a Gianni Brera. Gianni Brera più per la, diciamo, TV e Italo Cucci per la carta stampata. Era lui il direttore del Guirini Sportivo, giornale meraviglioso che io ho letto per anni, che ho interrotto da leggere, ma ho deciso quest'anno, quest'anno io ho deciso di ridare una svolta alla mia vita di tifoso, di tifoso e basta, perché la mia vita è sempre uguale, sempre bella, sempre entusiasmante, ma come tifoso ho deciso di dare una svolta. Di fatti tornerò a vedere la Juventus al Tardini, andrò probabilmente anche in qualche stadio, diciamo, limitrofo così, tipo magari verona Juve se riesco la seconda giornata, ma soprattutto andrò spesso allo stadium a vedere la Juventus, i big match cercherò di non farmi, purtroppo mi scapperà Juve Roma perché ho un servizio fotografico matrimoniale, quindi non posso, potrò soltanto vedere in televisione come tutti quanti noi. Però, se appena potrò, andrò a vedere un bel po' di partite della Juve. Allora ho detto, aspetta un attimo, siccome il Guerin Sportivo è un giornale molto bello, mi è sempre piaciuto, perché al di là del fatto che sia diretto da Zazzaroni, ci sono dentro beccantini, ci sono tanti fiori giornalisti, poi ci sono statistiche, ci sono i gol rifatti con i disegni, tipo Moviola, insomma, è un bel giornale, va detto, va detto. Vai, è arrivato Tiago Motta, la copertina mi è piaciuta, ve la faccio rivedere un attimo, così vi date un'idea di che cosa mi ha conquistato in questa copertina, e questa copertina, quindi faccio i complimenti in questo caso a Zazzaroni, mi ha convinto a ricominciare a comprare il Guerin Sportivo. Siccome il prossimo numero sarà già in pieno campionato, quindi sono interessato ad avere appunto la, ripartire con questo, ma c'è un ma, un ma grosso come una casa, che fa parte di questa nuova serie di video che ogni tanto capiteranno sul mio canale, probabilmente li metterò nel Good Morning, che si intitolano, fra virgolette, le grandi profezie. Eh sì, le grandi profezie. Perché dovete sapere che in uno stralcio dell'editoriale di Ivan Zazzaroni, che intervista Italo Cucci, da Guerino a Guerino, perché sono il vecchio direttore che è il nuovo direttore, dice, chiede, scusate, Zazzaroni a Italo Cucci, la Juve di Motta è la grande curiosità della stagione. Come pensi che andrà a finire? Ci dobbiamo aspettare altre divisioni, lui ovviamente si riferisce ai casini che sono successi in casa Juventus, e quindi, scusate, ma la gatta non ha ancora capito che non mi deve entrare nel video, chiedo perdono, anche a nome suo, è lì, lì, non hai ancora capito, è stellina, va bene. Risposta di Italo Cucci. Non la meno lunga, così si capisce subito se ho detto una fregnaccia assistito da ragionieri, commercialisti e dal solo Giuntoli, che non è l'Italo Allodi che allevò il bravo ma sfortunato Armando Picchi, Motta, Tiago, non farà molta strada. E i criticoni diranno, lo avevo detto, pur avendolo accolto con la fanfara dei bersaglieri. Mi fermo qua, poiché l'editoriale va avanti, parla del Napoli di Conte, parla di tante cose. Allora, signori, metti giù la codina. Signore, Io non posso che avere grande rispetto di Italo Cucci, perché ha accompagnato la mia infanzia, la mia gioventù, quando la Juve andava in finale ogni 3x2, con l'Hamburgo nell'83, con, non mi ricordo con chi cazzo è andato in finale nell'84, con la Coppa delle Coppe che l'abbiamo vinta, chiedo perdono, ma ormai l'età avanza. Nell'85 siamo andati in finale con, appunto, il Liverpool, quella maledetta serata dell'Eisèl. Insomma, era una Juve che andava spesso in finale. E il guerri sportivo, in particolare, diretto dai Italo Cucci, ne teseva le lodi. Poi non so in cosa è successo, se logiche perverse, politiche o altre cose, sono andate a cozzare. Italo Cucci, improvvisamente, qualche anno dopo, dalla televisione di Stato, in particolare della Domenica Sportiva, iniziò a parlare malissimo della Juventus e attaccarla ad ogni piaccio spinto. Se vinceva, vinceva perché rubava, se non vinceva, non vinceva perché non era all'altezza. Insomma, ogni volta che si apriva bocca, o che lui apriva bocca a parlare di Juventus, era sempre un'eccezione negativa. Evidentemente questo suo, non so se chiamarlo odio, o se questi suoi dissapori nei confronti di lui non sono cessati. Perché? Vi spiego perché. Ci sta che Tiago Motta non faccia molta strada. Però andare nell'ambito del giornale, perché poi nel giornale se lo andrete a comprare, leggere, io ve lo consiglio perché ci sono tante cose interessanti, non soltanto queste cose, si fa il paragone con i due precedenti in cui la Juve ha tentato di portare del bel gioco. Uno, Gigi Maifredi, accidenti a noi, proprio dal Bologna doveva arrivare Tiago Motta, non poteva arrivare da un'altra squadra, perché così adesso fanno i paragoni, i parallelismi storici. Anzi, considerando che la storia non è vero che si ripete sempre, a volte si ripete, ma spesso e volentieri non si ripete la storia. Anzi, può anche darsi che Tiago Motta sia il nuovo Lippi e non certo il nuovo Maifredi. Ma addirittura si fa il paragone con Sarri, denigrandolo, dimenticandosi, dimenticandosi tra l'altro la foto che pubblicano alla Coppa dello Scudetto in mano, che Sarri l'aveva vinto lo Scudetto, è stato mandato via per motivi di dissapori interni, non certo perché la Juve faceva schifo, perché la Juventus con Sarri non giocava né meglio né peggio di quella di Allegri che aveva vinto 5 Scudetti, capite? Non è che la Juve di Allegri con i 5 Scudetti o la Juve di Conte, forse quella del primo anno, sì, ma non è che giocassero un calcio champagne spettacolare. Tiago Motta non è stato chiamato a Torino per fare calcio champagne o per dare spettacolo, semplicemente è stato chiamato a Torino perché quello che c'era prima, ormai aveva delle idee che erano superate, e si vedeva lontano un chilometro che chiunque lo metteva in scacco, Nicola lo metteva in scacco, Dionisi che poi è stato trasformato lo metteva in scacco, qualsiasi baroni, qualsiasi allenatore lo affrontava, lo imbrigliava, metteva in difficoltà la Juventus. Ora, la Juve non aveva una grandissima rosa, ci mancherebbe altro, nessuno può negarlo, ma non aveva certo la quattordicesima, quindicesima, sedicesima, dicesettesima, diciottesima e via discorrendo a rosa della Serie A, aveva la terza o la quarta rosa più forte e quindi se tu ti fai mettere sotto una squadra che sono nettamente inferiori a te, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel manico, ovvero l'allenatore. Tiago Motta perché è stato chiamato? È stato chiamato perché ha delle idee che dovrà ovviamente mettere in atto, io non sono nessuno oggi per sapere, 17 luglio, per sapere se Tiago Motta farà bene o se Tiago Motta farà male, una cosa è certa, e l'ho ribadito più volte, non è giusto aspettare al varco Tiago Motta dopo neanche un anno di lavoro, quando hanno aspettato tre anni, tre anni orribili per bandare via Allegri, perché Allegri, se non vinceva la Coppa Italia l'ultima partita che lui ha disputato con la Juventus, proprio guarda caso l'ultima partita, se non vinceva quella, Allegri avrebbe fallito miseramente tre anni del suo mandato a 7 milioni e mezzo più bonus, ok? Lui praticamente si è portato a casa più di 27 milioni lui, ne ha fatti spendere altri 27, quindi 55 milioni buttati nel cesso dalla Juve per un allenatore che non ti ha fatto vincere niente, eliminato malissimo dalla Coppa dei Campioni, eliminato male dall'Europa League, buttato fuori dall'Inter malamente in semifinale di Coppa Italia, perso la finale di Supercoppa Italiana di Coppa Italia, cioè se non vinceva la partita con l'Atalanta, che secondo me l'abbiamo vinta perché l'Atalanta era proiettata mentalmente la settimana dopo con la finale di Europa League, e se visto poi che partita ha fatto in Europa League l'Atalanta, probabilmente Allegri adesso non sarebbe così, diciamo, messo sul piedistallo da alcuni, certo è che ci sono molti, molti, molti che ti fanno la Juve, non ti fanno la Juve, ma ti fanno Allegri e per me questi non sono juventini, lo ho detto più volte, perché io non sono un Tiago Mottiano e non sarò un anti-Tiago Mottiano, io criticerò Tiago Motta se farà male e lo incenserò se farà bene, così come ho incensato Allegri quando faceva bene, poche volte purtroppo, e ho criticato Allegri spesso purtroppo quando faceva male. Una cosa è certa, una cosa è certa, faccio i complimenti a Italo Cucci, che alla sua non più giovane età, sa già quello che accadrà, perché lui non ha detto, secondo me, ha detto durerà poco, durerà poco, Tiago Motta durerà poco, io non so che cosa gli abbia fatto Tiago Motta a Italo Cucci, considerando che c'è un occhio di riguardo da parte di Italo Cucci e da parte di Zeroni per il Bologna, qualche sospettuccio che abbiano il dente avvelenato con Tiago Motta perché ha lasciato il Bologna per la Juventus ce l'ho, però sapete, come diceva il buon Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende, quindi non lo so se è questo il motivo. Fatto sta che la profezia, la prima profezia appunto, che ho pubblicato sul mio canale a partire da oggi, che di Italo Cucci, intervistato da Ivan Zazzaroni, dice che Tiago Motta durerà poco. Good morning Juventus.